E' un compositore siciliano, principale esponente dell'essenzialismo, un genere musicale nato alla fine degli anni 90 a Milano, che cerca di diffondere la nuova musica classica tra il pubblico. La sua musica è regolarmente eseguita in importanti sale da concerto e teatri in tutto il mondo, tra cui il Teatro Massimo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro della Scala di Milano, l'Opera di Göteborg in Svezia. Di Nunzio Ortolano ascoltiamo MUN. 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 Grazie a tutti